Ok, cerchiamo che possa aiutarci. Nota sufficienza per comprare un pirocidico e guarda caso ne ho appena ricevuto uno. Trovo qualcuno che si parla di affannare, sì ma... Minchia, sono tornato indietro. Dai. Mappa. Difendi che ne trovo qualcuno che trovi. Qua devo andare prima. Un saluto. Muori tutti la schiena. Muore lo snore di qua, giusto? Cazzo. Cazzo. cazzo buono c'è 11 di vita c'è 11 di vita muovo io condici di vita io qui c'era gira allora così tutto allora non ho capito che può riempare però allora chi sto io sto qua quindi voglio trovare una strada di uscita posso capire vai dai muori me lo voglio bella e ora che sembra la via più veloce per scendere proviamoci no no fantastico un altro giro ok vediamo cosa abbiamo qui e così Ratchet, Clank e l'idraulico iniziarono a riparare l'astronave ancora non sapevano che sarebbero giunti al prospetto di una vera leggenda e dei suoi picipiti guizzanti ma prima li attendeva il tirannosauro zombie mangiacerva eeeh eeeh non ricordo tirannosauro zombie mangiacerva si è vero questa festa beh ora dovrebbe funzionare promettimi che porterai quel linfomot al capitano quark promesso grazie dell'aiuto nessun problema al prossimo rimei eeeh entra nella nave Ratchet e Clank scoprirono che la loro astronave appena riparata aveva un nuovo computer per il viaggio nel liber spazio consegna l'infobot a rangers galattici eeeh si fa colt di esplorare la galattia a ranger eeeh forse possiamo aiutare Skid Mac Max ah no perché prima di questa io ho provato Sigmadax Sigmadax è una cosa così buono troppo tardi l'invasione è iniziata scansione canali d'emergenza dobbiamo scoprire cosa succede a terra attenzione a tutte le unità la sala degli eroi è sotto attacco il distritto centrale di aliro city è invaso dalle navi nemiche i ranger galattici sono assediati nella sala degli eroi e c'è una navetta larga in rapido avvicinamento arrivano altri guerra bot ranger a tutti i civili evacuate l'area dobbiamo aiutare i ranger galattici attivazione dei sistemi d'attacco no aspetta questo funziona uno è andato si chiunque tu sia grazie ebbè modo di andare quelle navette scaricano per rapporti in ogni angolo della città non finché ci sarò io allora ok allora così 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 minchia minchia allora io devo fare un po' di è facile è facile vedersi perché se questo cosa non si muove un botto ebbè cia allora devo vedere come distruggerla come cazzo devo eliminare quelle navette navetta larga abbattuta ma una andata ma chiunque stia facendo le roll lassù è il nostro territorio un'altra navetta è andata sembra che siano rimaste solo tre navi Dai Allora vai sopra Sopra Minchia Sì, non ci ferma nessuno Manca l'ultima nave Da sta, da sta Dai Dovete nascondi Cazzo Dovete nascondi Eccola Guarda Vai sotto Questa era l'ultima Grazie ragazzi Avete distrutto tutte le navette Ma resta ancora la nave da guerra La corazza dei guerra botta in lega di Arrara Italia Beh raga Eh, sta missione la finiamo la prossima volta perché mi sembra un po' troppo lungo il video Quindi Ehm Ehm Prossima missione Ehm Boh Devo distruggere la nave Battaglia Nel prossimo video E niente raga Lasciate like Iscrivetevi Noi ci abbiamo provato a fare questa missione adesso Soltanto che Dopo ci allunga troppo il video Quindi Lasciate like Iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Bella vai You Ciao 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 Ciao